Ciao YouTube, io sono Simone Bondi, BondiJ! E oggi cosa si fa? Allora andiamo a un evento sulle macchine, andiamo a Modena perché appunto nella Modena Fiera, che è stato aperto da poco dopo il lockdown, praticamente c'è questa mostra, questa fiera, ovvero una fiera interamente dedicata al mondo delle automobili. Stiamo parlando del Modena Motor Gallery, quindi siamo andati un po' a vedere alcune macchine d'epoca, a vedere di che cosa trattasse questa fiera, e devo dire che è stata molto molto bella. Volete vedere cosa abbiamo visto? Subito dopo la sigla! Power! Believe it! Si chiama Modena Motor Gallery ed è giunta la sua ottava edizione. Pensate, tantissime auto d'epoca, tantissime auto nuove, tutti in mostra a Modena, nella terra dei motori. Ed è stato un grande, grande successo. Il pubblico ha aumentato del 30% rispetto all'edizione dello scorso anno, quindi nonostante la pandemia un grande numero di persone è appunto venuta a Modena per assistere a questa mostra a mercato in cui si potevano vedere le auto d'epoca ma si potevano anche acquistare. E tra le interviste più belle della mostra c'è stata quella appunto al fondatore di Pagani. Grazie a tutti! E tanti modelli di Ferrari che si faceva già valere diversi anni. E durante la mostra si potevano vedere anche i suoi motori, molto molto particolari. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Tra le varie macchine c'era anche la Lamborghini. Abbiamo assistito alla sua lucidatura. Grazie a tutti! 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 Per gli anni prossimi! Abbiamo visto tante auto d'epoca, abbiamo visto tante anche autovetture nuove, qualcuna c'era. C'era la possibilità come vi dicevamo di poter provare anche le automobili e devo dire che è molto molto approvata. Quindi complimenti agli organizzatori e invito tutti il prossimo anno a parteciparvi. Io vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace che è molto molto importante, di iscrivervi al canale, anche questa cosa veramente importantissima per aiutare a far crescere questo canale YouTube. E niente, ci vediamo al prossimo video, sono sempre Simone Bondi, BondiJ, ciao YouTube! Power! Believe it!